Ciao a tutti! Faccio questo video dove non suono solo ma parlo anche un pochino perché ci tengo molto a salutare tutti, a salutare tutti, ci tengo molto a ringraziarvi del supporto che fino a oggi mi avete dato per le lezioni di tromba, per i miei video in cui suono e soprattutto ci tengo molto a mandare un abbraccio virtuale a tutti coloro che si imbatteranno in questo video perché è un periodaccio, è un periodaccio che stiamo vivendo tutti anch'io in primis, un periodaccio dal punto di vista lavorativo per tutte le occupazioni da chi lavora nella ristorazione a chi lavora nella cultura ma non solo ovunque, non sapremo quando la situazione si rimetterà a posto, non sapremo quanto potremo durare così. In questo periodo qua mi è venuto in mente un pezzo del grande maestro David Bowie, scrisse questo pezzo chiamato Life on Mars in cui c'è questa ragazza che è rifiutata dalla società e disprezza la società dove vive, non sa più cosa fare, non sa più dove andare e si chiede se ci sia vita su Marte. Ecco, io ho riascoltato questo pezzo e ho pensato che forse tutti noi dovremmo pensare e capire qual è il nostro Marte. Per me il mio Marte è la musica proprio, è la musica che in tutta la mia vita mi ha aiutato a trovare il lato positivo nelle cose, a scandire ogni momento e talvolta spesso sentendo delle canzoni mi tornano in mente alcuni momenti. In questo caso qua penso che dobbiamo dare una chance alla musica non perché le cose passino, ma perché penso che il potere della musica, come sappiamo, è terapeutico ma è di grande ispirazione. Penso che possa aiutarci a trasformare questo disastro in opportunità. Penso che possa farci tirare fuori la positività, scusate, e l'amore e quindi la vita. E quindi adesso vi lascio a quest'altro video dove suonerò. Ciao a tutti, un abbraccio forte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.